Match attesissimo, in settimana non si è parato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Appassionati di grande calcio, benvenuti, gara che sta per avere inizio, mettetevi comodi. Ben trovati amici da parte di Piero Gipardo con me a commentare il match Lele Adani. Per i palati calcistici davvero più raffinati, benvenuti oggi, propone un match straordinario di Serie A in campo a Fiorentina e Genoa. Il calcio è la nostra passione, il calcio è della gente, di tutte le milioni di persone sparse nel mondo. Permettimi di rivolgere loro un saluto e un ideale abbraccio. Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il sistema è in assoluto più equilibrato, Pier. È un sistema che ti può garantire sia una copertura adeguata in fase difensiva che un buon svolgimento offensivo quando devi proporti sia sulle fasce che arrivare sulle punte. Si comincia con la Fiorentina in possesso di palla. Luca Sorreira. Occhio al suo movimento. Grande occasione. Palla ancora lì. Palla che finisce docile tra le braccia del portiere che qualche sette fa è stato davvero protagonista. Se non fosse stato per lui avrebbero preso gol. Non so nemmeno io come abbia fatto ad arrivarci. Padroni di casa che hanno a disposizione due risultati su tre per portarsi in testa alla classifica. Un pareggio sarebbe sufficiente. Ovviamente vorranno provare a vincere. Il loro obiettivo è agguantare il primo posto per cercare poi di tenerselo stretto fino alla fine. Pier, non manca più moltissimo da giocare. La pressione passerebbe tutta sulle inseguitrici che sarebbero costrette a rincorrere. Occhio alla botta. Ha provato la botta dalla distanza ma il pallone è uscito. Una conclusione potente che vista la difficoltà avrebbe meritato di certo sorte migliore. E invece finita di poco fuori. Peccato. Sempre difficile fare previsioni su chi sarà il giocatore più decisivo. Uno dei nomi su cui puntare può essere proprio lui. Ci spera ovviamente l'allenatore. In campo aperto. Tecchir. Grande parata questa. Tocca vicino verso il compagno. Occhio al tiro. Qualcuno aveva pensato al gol ma il pallone è terminato largo. Torreira. Torreira. Ha il supporto dei compagni. Tocca vicino. Cercano di rendersi minacciosi nell'area avversaria. Allora intercettato senza problemi. Possibilità per la ripartenza. Con questa palla punta la porta. Gol. Si sblocca la gara. Stavano spingendo da un po' e alla fine i loro sforzi sono stati ripagati. Azione del gol che merita di essere rivista contro piede micidiale direi. Ha preferito calciare con l'interno del piede piuttosto che di potenza. È avuto ragione. È lungo da fare più per il portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Parigini. È in buona posizione. Buon possesso palla. Cercando spazi. Recupero palla determinante. Potevano andare veramente in porta qui. Luca Sorreira. Fiorentina che si affida a una buona rete di passaggi. Goodman, Sean. Cerca la porta. Tiro buraco. Deve sfruttare questa occasione se vuole il pari. Buono l'intervento del portiere. Palla che sbatte contro i legni ed esce. Sfortuna, sì, sì, ma anche un pizzico di imprecisione. Perché era vicino. Errore e pallone riconsegnato. Attento il portiere che svetta il pericolo. Attento il portiere che svetta il pericolo. Occhio al tocco in mezzo. Splendido lancio. Attenzione qui. E trova il gol. Doppio vantaggio adesso. Con nato sugli sviluppi di questa palla lunga a scavalcare il centrocampo. Hanno badato più la sostanza che lo spettacolo qui. Il risultato ha dato loro ragione. A di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. Match che riprende. Ha allungato portandosi sul 2-0. Ha sprecato tutto da pochi passi. Ha optato per la potenza. La palla non è uscita di molto. Ma poteva fare meglio qui. La palla non è uscita di più. San Giusta. Arbitro che pone fine alla prima frazione di gioco. Vero protagonista di questo match. Come confermano anche i numeri. E sempre nel vivo del gioco. I compagni lo cercano costantemente perché è bravo a sottrarsi dalla marcatura avversaria. E lo sottolinea anche il dato dei tiri in porta. E intanto ha fatto pure gol. Comincia il match. Si parte con la pereffina in possesso. Occhio alla botta. Ha provato la botta dalla distanza ma il pallone è uscito. Una conclusione potente che vista la difficoltà avrebbe meritato di certo sorte migliore. De Kier. Grande parata questa. Occhio al tiro. Qualcuno ha avversato al gol ma il pallone è terminato largo. Con questa palla punta la porta. Gol. Si sblocca la gara. Stavano spingendo da un po' e alla fine i loro sforzi sono stati ripagati. Deve sfruttare questa occasione se vuole il pari. Buono l'intervento del portiere. Palla che sbatte contro i legni ed esce. Sfortuna, sì, sì, ma anche un pizzico di imprecisione. Attento il portiere che sbatta il pericolo. Splendido lancio. Attenzione qui. E trova il gol. Doppio vantaggio adesso. Ha sprecato tutto da pochi passi. Ha optato per la potenza. La palla non è uscita di molto. Ma poteva fare meglio qui. È tutto pronto. Comincia il secondo tempo. Gli strappa il pallone dai piedi senza commettere fallo. Mi ricordo l'appuntamento con la Serie A su IATV. Gara che vedrà impegnata Fiorentina ed Empoli. Mi aspetto grande spettacolo, Pier. Sono due squadre che giocano un bel calcio. Speriamo ce ne diano una dimostrazione. Può poggiarla un compagno. Può far male da lì. Respinge la conclusione allontana. Preferisce il tocco corto. Ferma la conclusione avversaria. Punizione da una mattonella molto interessante. Palla sulla barriera. Recuperano bene della tre quarti avversaria. Portiere che si disimpegna bene su questa conclusione da fuori. C'era rimessa con le mani. grande appuntamento in arrivo qui su IATV, una delle gare più attese della stagione. Due squadre che giocano un calcio propositivo. Preferiscono attaccare piuttosto che difendersi. Lo spettacolo dovrebbe essere assicurato. La Fiorentina ha tenuto meno la palla rispetto agli avversari. I numeri non mentono. Risultato che premia comunque i loro sforzi. Hanno saputo sfruttare meglio le occasioni avute. Le partite si vincono anche così. Non sempre dominare garanzia di successo. Il MES di oggi nella prova. Occhio al forze degli avversari che vogliono cambiare il risultato. Non sfruttano questo possesso. Palla che non crea nessuna difficoltà al portiere. San Giusta. Tolissù. Occhio all'avanzata dei viola. Ha lasciato partire un gran tiro. Allora è che è uscito abbondantemente. Doveva passarne invece di andare in porto. Dai! 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 Lettura perfetta e palla recuperata. Avanza solo a tre quarti. A spazio prova! Spinge il portiere. Va a farone ancora lì. Nessun problema sul cross. Ruolo spesso bistrattato quello del portiere. Protagonista sul tentativo di poco fa di una parata pazzesca. Con cui ha blindato il risultato. Carica il tiro. C'è la ribattuta. Torreira. La boccia su Diatta. Può far gol da lì. Pallone in rete. Entrava nel gol del più tre in questo finale. Gara che sembra ormai aver detto tutto. Da apprezzare meglio qui il suo fiuto del gol. Perché era il posto giusto e al momento giusto. E da quella distanza non poteva sbagliare e non ha sbagliato. che va ancora ormai aver detto tutto. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Buona qui la lettura del difensore. La gioca profonda verso l'attaccante. Riceve palla tra le linee. Fekir. L'appoggio su Diatta. Eccolo qui il segnale di chiusura del match, successo della squadra di casa. Tre punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla. Quando giocano così, diventano difficili da fermare. Una partita di grande sostanza. La sua di oggi può uscire dal campo certamente soddisfatta. Con che sorriso sta uscendo dal campo, eh, Pierre? E ha ragione, eh. Oggi può tornare a casa con in tasca un gol e la vittoria. Occhio alla botta. Ha provato la botta dalla distanza, ma il pallone è uscito. Una conclusione potente che, vista la difficoltà, avrebbe meritato di certo sorte migliore. Fekir. Grande parata questa. Occhio al tiro. Qualcuno aveva pensato al gol, ma il pallone è terminato largo. Con questa palla e punta la porta. Gol. Si sblocca la gara. Stavano spingendo da un po' e alla fine i loro sforzi sono stati ripagati. Deve sfruttare questa occasione se vuole il pari. Buono l'intervento del portiere. Palla che sbatte contro i legni ed esce. Sfortuna, sì, sì, ma anche un pizzico di imprecisione. Attento il portiere che svetta il pericolo. Splendido lancio, attenzione qui. E trova il gol. Doppio vantaggio adesso. Ha sprecato tutto da pochi passi. Ha optato per la potenza. La palla non è uscita di molto, ma poteva fare meglio qui. L'appoggio è suddietta. Poter gone lì. Pallone in rete e trovano il gol del più tre in questo finale. Gara che sembra ormai... ... ringraziamo il mister per aver accettato di rispondere ad alcune domande grazie è tutto grazie ancora per la sua gentilezza